Un momento di particolare difficoltà dopo la pandemia con l'inflazione a due cifre, con il caro Energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il fondo per il contributo affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. Abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate integrative del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. Garantirei il finanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti, a partire dal Fondo Sociale e dal Fondo Morosità Incolpevole. È uno degli impegni chiesti alla Giunta regionale presso il Governo nella mozione presentata dal PD. L'Aula ha votato all'unanimità il documento. Apprezziamo queste mozioni, ma occorre capire se sono atti presentati per fare campagna elettorale o meno, dice Fratelli d'Italia. Abbiamo presentato degli emendamenti. In sostanza abbiamo chiesto, uno, di riconoscere quello che il Governo ha fatto, perché è vero che il tema del contributo affitto è importante, va rifinanziato, e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti, Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitto, ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte, e dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio, e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico toscano, che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la regione toscana. Non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti, non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturarli. Noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive dalmeno 18 anni negli alloggi popolari e con il ricavato di quel riscatto, ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì dalmeno 18 anni possa acquistare quell'appartamento, con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti ma che non possono essere assegnati e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani. La nostra mozione ricalca i fondamenti di quella del PD, ha detto Irene Galletti, il Movimento 5 Stelle, che ha ricordato l'allarme per l'emergenza a sfratti aumentati del 30%. La Lega motiva così il proprio voto favorevole. Noi ci siamo mossi, soprattutto con i nostri parlamentari, per quanto riguarda l'amorosità, l'affitto. Il fondo non è stato sovvenzionato, però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. No, per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati i 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo, che riguarda quello a Firenze, in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata, anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica. Però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Ma al di là di questo abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti. Beh, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16.000 euro. Non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16.000 euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui, ecco, mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. Non ultimo mi sono permesso, tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320.000 euro una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. Questi i dati dell'attività 2022 dell'autorità regionale per la partecipazione, mentre a livello normativo si sta adeguando la legge regionale, al termine del dibattito a maggioranza viene approvato un documento in cui si chiedono alla Giunta precisi impegni. Si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. Non dalla Lega che parla di scarsi risultati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico, perché esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana, abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo, purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farle utilizzare, di farle conoscere. Sui temi critici, dice il gruppo misto che si astiene, manca una reale partecipazione. Se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita su rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove, penso alla questione aeroportuale, si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è, si crede davvero nella partecipazione, allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano il futuro della Toscana. Abbiamo un'ottima legge, dice il Movimento 5 Stelle, ma viene davvero utilizzata? Delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state la darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni, quello che viene da domandarsi guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono, perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno. Bisogna migliorare la legge, dice Italia Viva. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Con grande soddisfazione che questo garante ha elaborato un codice etico per il diritto alla salute delle persone di minorità ospedalizzate e in assistenza sociosanitaria domiciliare, che nell'ambito della Regione Toscana rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minorità. Infanzia, predisposto un codice etico per i diritti dei minori negli ospedali toscani, è stato elaborato dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie in Toscana. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della regione toscana che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della regione toscana. I segni di una profonda soddisfazione vengono espressi anche dal Consiglio regionale attraverso il presidente dell'Assise e il presidente della Commissione Sanità. È un codice che punta a aver scritto, aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con e nucleati al suo interno tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve veder riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. La vita è fatta di incontri e l'incontro è quello che ti cambia, che rivoluziona quel io in noi, in noi, in lui, nel caso in cui il nostro cuore sia aperto all'infinito. Una storia unica, quella di Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, la famosa tassista di Firenze, conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore, che accompagna con allegria nel proprio taxi colorato e pieno di peluche. Una storia raccontata adesso da Alessandra Cotoloni nel libro Taxi Milano 25, in viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi. È stata un'esperienza, direi, unica, perché questa è stata la possibilità di poter conoscere la zia Caterina e quindi noi abbiamo un personaggio così importante in Toscana che fa una cosa così bella, così importante. E poi è stata la possibilità di veramente incontrare tante persone, un arricchimento costante e continuo, perché ogni volta quando sali nel taxi c'è un'esperienza che non sai nemmeno quale tipo di esperienza ti possa aspettare, però ecco, esci fuori, scendi fuori, che dal taxi ti senti veramente tanto arricchito. C'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di chiedere aiuto, dice zia Caterina. In questo momento mi sento di dire che è un'emergenza, un'emergenza amore, quindi quanto mai è disponibile l'essere umano e quanto lo deve essere adesso, perché adesso siamo tutti in emergenza. Essere in emergenza vuol dire chiedere aiuto, vuol dire non ce la faccio da solo, vuol dire aiutami perché non è facile nascondere questo disagio. Il messaggio è questo, un libro per scambiare il nostro disagio e un modo per chiedere aiuto. Alla presentazione del volume in Sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso, il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, il Vice Marco Casucci e l'Assessore Leonardo Marras. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, uno dei volti più belli della nostra regione. È un volto che racconta la solidarietà, la capacità di star vicino a chi soffre, di trasformare le paure, le preoccupazioni in speranza, in gioia. Zia Caterina è questo, è una forza della natura che arriva al cuore di ciascuno di noi e che fa sorridere chi dentro piange. Qualcosa di enormemente bello. Il libro è già stato tradotto in tedesco, io mi auguro possa essere tradotto in tante altre lingue. E oggi siamo qui a parlare di un rivoluzionario dei nostri tempi. La rivoluzione che si basa sulla solidarietà, sulla capacità di chiedere ma anche di dare aiuto. Dovremmo farci tutti una riflessione interiore e capire che chi si dà agli altri è veramente un esempio imperdibile per la nostra meravigliosa Toscana. I legami personali sono fortissimi e ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che Farah Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari. Tutto è complementare. Dalla formazione con gli studi in giurisprudenza all'Università di Firenze ai tanti legami culturali e professionali. Per queste ragioni il Consiglio regionale della Toscana ha conferito il gonfalone d'argento ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. La cerimonia si è svolta nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. Per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo a cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale, la Toscana è orgogliosa. Tocca i temi di attualità a Patuelli, tra cui la preoccupazione per l'aumento dei tassi di interesse. È dall'inizio di gennaio che io ho gridato l'allarme della preoccupazione che l'aumento imprevisto ancora a maggio-giugno dell'anno scorso, poco più che un anno fa, poi dei tassi si è realizzato con un ritmo molto insistente. E la preoccupazione che ho da inizio d'anno, e l'ho espletata l'urime volte, la ribadisco, è quella che imprese e famiglie, in Italia in particolare, non prevedessero questi aumenti dei tassi. Alcuni, prudentemente, il 63%, avevano sottoscritto mutui a tasso fisso, con tassi infimi, per loro non c'è nessun problema, i problemi semmai sono per le banche, che debbono garantirsi una raccolta a maggiori costi, per intorti di atti di mutuo che rimangono inalterati. Per il 37%, invece, dei mutuatari che hanno scelto, quello che all'epoca sembrava più conveniente, ma era più rischioso, il tasso variabile, chiaramente ci sono tante misure, in parte le ho enunciate all'Assemblea dell'ABI il 5 di luglio scorso, e stiamo lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per trovare delle possibilità di ampliamento delle misure, che non sono solo di allungamento, sono anche di rinegoziazione, di surroga, tutto il possibile nell'ambito delle rigide norme che l'autorità bancaria europea, che non è la BCE, ma l'EBA, che ha sede a Parigi dopo averla avuta a Londra prima di Brexit, ci continua a imporre. Noi non siamo interessati socialmente alle crisi delle famiglie, anzi, noi siamo interessati a prevenirle. Prevenendo le crisi delle famiglie, si prevengono anche i crediti deteriorati e maggiori oneri di capitale per le banche, quindi l'interesse è assolutamente convergente. Grazie.